Individuava un'azienda da qualche tempo inattiva, la rilevavano e truccava i bilanci facendoli diventare floridi e poi li presentava a banche e istituti di leasing per farsi aprire linee di credito per l'acquisto di macchinari. Non contento, comprava anche beni da altre aziende che rivendeva, dimenticando però puntualmente di pagarli. Ci ha pensato la Guardia di Finanza di Padova a mettere la parola a fine all'attività di un 49enne residente nel Mantovano che aveva messo a segno truffe per un milione di euro tra le province di Padova, Rovigo, Mantovano e Brescia. Un'indagine che si è incrociata con il fallimento a settembre di una società con sede nel Padovano costata al 49enne anche una denuncia per bancarotta fraudolenta. Un uomo abituato a non perdersi d'animo. Nonostante gli accertamenti delle fiamme gialle fossero in corso, il 49enne, complice un prestanome sessantenne di Teolo, aveva infatti aperto una nuova azienda nel Rodigino con cui aveva ripreso i suoi traffici illeciti fino all'arresto. Grazie a tutti.